Stanno provando praticamente ad insabbiare tutto quello che sta venendo fuori cercando pure di accusare, di far passare per raccontatori di bufale, di fake news chi invece si informa diversamente un po' come è successo per il caso Cosidi che chiamavano negazionisti tutti coloro che non ci stavano al racconto dei media e provavano ad informarsi un po' per i fatti loro riuscendo poi a trovare una verità differente da quella che ci raccontavano a distanza di anni abbiamo scoperto stiamo continuando a scoprire con le inchieste che vengono fuori che effettivamente i negazionisti tanto torto non avevano in questo caso si parla di caccio, non si parla di salute pubblica soprattutto di tutto quello che è venuto fuori per quel che riguarda proprio il vaccino o quello che sarebbe più giusto chiamare come un farmaco sperimentale però ognuno ormai si è convinto delle proprie idee nonostante che stanno venendo fuori tutte le verità la stessa cosa sta succedendo nel calcio l'Inter è accusata di mille cose ma naturalmente i giornali non lo raccontano quello che non viene raccontato non succede mettetevelo bene in testa come sempre prima di partire con questo contenuto in risposta anche a chi ci accusa di raccontare il falso perché le notizie che portiamo prima passano a volte spesso da questo canale e poi magari arrivano anche sui giornali non è per tirarmela ma è la verità un po' come il lavoro sporco del VAR la Marotta League e diciamo gli incontri tra Gravina e qualche operatore mettiamola così dell'Inter che c'è stato io ve l'ho raccontato tante volte e lo abbiamo anche visto a fine campionato quando gli operatori perché ormai sono diventati operatori della FIGC sono andati a festeggiare lo scudetto a bordo campo con l'allenatore dell'Inter la compagna di questo uomo viglione che fa rima con Materazzi esatto che è uno dei membri membri nel vero senso della parola della Covizoc si dimette irrevocabilmente insieme ad altri quattro membri dei cinque che facevano parte dell'associazione per delinquere di stampo Covizoc che serviva per controllare ma che effettivamente non hanno controllato allora così come vi ho portato mesi fa la notizia del 31,05% di Lion Rock che non è più possessore del 31,05% dell'Inter a distanza di mesi se andate a cercare su Google Googleate Inter Lion Rock vi viene fuori praticamente il mio video ne parlavo già mesi fa a distanza di mesi è venuto fuori anche questo scempio del 31% che guarda caso Gravina con il proprio staff sapevano fino a qualche giorno fa che apparteneva ancora a Lion Rock il 31,05% ma questo sappiamo che da tre anni non è così quindi per questo dovete commentare alla fine del video come vi dico sempre ma soprattutto condividere questi contenuti perché la verità è scomoda comincia a far male comincia a bruciare a dar fastidio e noi dobbiamo continuare su questa strada perché fino a qualche mese fa quando erano gli altri a raccontare le loro verità che poi sono state smentite anche sulle aule dei tribunali della giustizia ordinaria perché la giustizia sportiva ha fatto il suo corso breve, celere e soprattutto con delle penalizzazioni afflittive che devono essere fatte immediatamente alla squadra prima ancora di andare a vedere se il tutto è vero oppure no in questo caso viene utilizzato gli stessi personaggi ma con un risultato leggermente diverso quando loro raccontavano della Juventus andava tutto bene la Juventus sappiamo su tutte le prime pagine dei giornali rischiava la serie B rischiava la radiazione addirittura Agnelli rischiava la galera sappiamo che Kine si è impegnato e Santoriello pure in tutto e per tutto con l'aiuto di Gravina che a parole voleva salvare il brand ma che poi quando il tribunale del Tar del Lazio ha dichiarato che la Juventus doveva avere le carte quelle carte segrete che aveva Kine Kine non le ha volute dare e Gravina lo ha aiutato per qualche giorno queste carte non sono state date alla Juventus meno male che Gravina voleva salvare il brand lo stesso Gravina che in finale di Coppa Italia Atalanta Juventus esclama non doveva andare così dopo la vittoria dei Bianconè e quindi noi dobbiamo continuare a fare questo lavoro ora gli stessi che prima osannavano i giornalisti naturalmente tipo Gazzetta dello Sport anche tutto sport il Corriere dello Sport ma tutti i giornali ne parlavano addirittura anche quelli che parlavano di Cosidi avevano smesso di parlare di Cosidi per parlare dello scandalo Juventus plus Valenze e quello che ne girava attorno ricordiamo poi Report ricordiamo Fanpage ricordiamo le Iene con Filippo Roma che si sono occupati anche di fare dei servizi molto specifici molto attenti sul raccontare proprio che la Juventus era la brutta e cattiva della Serie A per poi dopo qualche mese vedere le altre società che facevano plus Valenze e nessuno muoveva un dito ecco adesso queste persone cominciano ad accusarci di inventarci le notizie perché giustamente dopo che vi ho portato tre mesi prima rispetto a tutti gli altri il discorso di Leon Rock adesso vi sto portando che da parte della Covizoc qualcuno lamenta qualcuno dice che c'erano dei regali fatti a determinate persone dal mondo inter e questa è una notizia che i giornali dovrebbero mettere su tutte le prime pagine e aprire un'indagine se così non fosse allora vuol dire che è proprio vero vogliono continuare ad insabbiare perché è inspiegabile che 4 dei 5 membri della Covizoc si dimettano con la motivazione che non ci sono più gli estremi per lavorare non ci sono più le condizioni per lavorare dopo che Abodi dice che dobbiamo fare una commissione che vada a controllare anche chi controlla e allora saltano fuori anche le notizie che chi doveva controllare riceveva dei regalini però diventa una fake news perché? perché i giornali giustamente non lo scrivono così come i giornali non scrivevano e continuavano a negare che per quel che riguarda il Cosiddi quella sostanza magica aveva degli effetti avversi ci hanno sempre detto che non era vero ci dicevano addirittura che con la prima dose eri immune da tutto potevi lanciarti pure dal grattacielo c'è gente che è andata in overdose e avete capito che cosa voglio dire quindi non è che se il giornale riporta una notizia è vera se il giornale invece non riporta una notizia è falsa perché dovete vedere anche chi è il giornalista per chi lavora chi è l'editore se il giornalista è libero di parlare lo youtuber invece è libero di parlare io racconto quello che mi viene anche detto ognuno di noi naturalmente conosce qualcuno io non ho conoscenze nella serie A nel mondo dello spettacolo però giustamente essendo che vivi su youtube e su youtube ci sono tanti personaggi anche tante persone che vanno allo stadio si possono avere delle conoscenze e possono avere delle notizie così come quando vi dissi anche di Aurelio dell'Aurentis delle porcate del Napoli e della plus valenza fui uno dei primi a dirlo e poi successe effettivamente quello come l'ho saputo da una persona che ancora adesso lavora per De Laurentis per la sua sicurezza l'ho detto già una volta e continuerò a dirlo quindi se uno vi racconta una cosa non è che per forza è fake perché il giornale non la riporta anzi vi dovete fare a volte una domanda perché i giornali non le riportano soprattutto quando la logica porta a dire che è vero come gravina ho fatto il video dove ho detto che ha esclamato quelle parole qualcuno è venuto a dirmi ma c'è un video dove si vede lui che allora scusate quell'accusa dove il giornalista diceva che Buffon aveva detto dello spogliatoio meno male che le squadre piccole contro di noi si scansano sempre vi ricordate? Buffon ha smentito il giornalista ha ribadito no è vero perché io l'ho sentito con le mie orecchie quindi basta essere giornalista per dire cazzo che vuole però se sei uno youtuber non lo puoi fare soprattutto se hai le notizie vere perché a breve vedrete che salterà fuori anche questo detto questo il video finisce qua visto che siete arrivati fino alla fine condividete questo video anche in risposta a chi ci accusa di inventarci sempre le notizie quando tutto quello che abbiamo raccontato fino ad oggi si è avverato tutto condividete questo video commentate naturalmente mettete un bel like anche se vi va iscrivetevi al canale e attivate la campanella e attivate la campanella e attivate la campanella